Sei un personaggio famoso del web, sei un influencer, sei comunque un personaggio che ha un eco-mediatico abbastanza elevato o comunque sei un personaggio scomodo, agli altri che non vieni apprezzato, non vieni accettato o comunque ti bullizzano qua su internet ebbene sappi che esiste un'applicazione che fa il caso più, si chiama Slay ed è un'app che va letteralmente a bullizzare i cosiddetti E3, i cosiddetti che ho in data stiera. Si possono fare in sfatti soltanto complimenti, è nata da poco tempo in Germania, sta spopolando tra tutti, nessun escluso, anche i più giovani a breve arriverà però anche nel nostro paese, in Italia. Diciamo che in questo modo Slay ha già raggiunto l'ultimo posto sull'Apple Store, si parla di bullismo il bullismo che a volte, diciamo così, può creare problemi, può portare ad essere un abito a fare la vita quando avvi questa applicazione ti vengono a mostrare 12 domande può scegliere soltanto un altro utente a cui bisogna fare un complimento in anonimo, in anonimo in un altro se lei chiede se tu rispondi facendo un apprezzamento a qualcuno cioè, diciamo, l'apprezzazione può scegliere così chiede e tu rispondi facendo per forza un apprezzamento a qualcuno ma allo stesso modo, oltre a fargli i complimenti che ricevi quindi, hai i complimenti ma ricevi anche tu stesso, tu senza complimenti beh, l'obiettivo è quello di andare a evitare che una persona vada a compiere insulti beh, da Nara Dovedere è tutto, ciao a tutti